Nella vita ci sono molti viaggi da fare, molte persone da conoscere, e mai dovresti essere in grado di perdere un treno che potrebbe essere il più importante della tua vita. È per questo che noi di Trenitalia ci impegniamo per fare ogni giorno sempre più ritardo, per darti tutta la sicurezza e la fiducia di poter arrivare anche a mezz'ora dall'orario di arrivo della coincidenza, così da non perdere nessuno dei tuoi treni. A parte quelli di scambio, ma dopo tutto, non è una destinazione che conta, ma è il viaggio. O mettete giù su quel sedile del merda, aspetta che arriviamo, eh? Oh, ma che vuoi? Ma non è un'altra prangita?